E' stato allestito nella chiesa di Gesù e Maria a Foggia un piccolo museo per ricordare il venerabile padre Agostino Castrillo. Il servizio. Per la città di Foggia è stato davvero un padre. Ha amato questa città solo come un papà può fare, tenendole la mano durante i bombardamenti del 43, quando dal cielo piove morte. Padre Agostino Castrillo, qui nella chiesa dedicata a Gesù e Maria, ha vissuto dieci anni più importanti della sua vita, i cui segni sono racchiusi in questa stanza, divenuta museo, con le testimonianze del padre, divenuto venerabile. Essere a contatto diretto con i ricordi dei santi è sempre molto emozionante, perché non sono soltanto dei cimeli, ma sono anche delle reliquie per noi che li veneriamo come servi di Dio e un domani come beatio. Quindi sono testimonianze della sua vita, sono pezzi della sua vita che ci vengono consegnati dalla storia e che noi cerchiamo di mantenere con cura ma anche con devozione. Padre Agostino visse gli orrori della guerra sporcandosi il saio di sangue pur di aiutare i feriti. Infondeva Speranza, quasi 80 anni fa, la stessa che serve oggi. Egli veramente volle condividere con la popolazione di Foggia il tormento della guerra. Pensare a padre Agostino significa pensare ai giorni d'oggi, a quello che l'Ucraina sta vivendo. Ecco, egli volle essere accanto al popolo, non fuggì dal popolo. Questa chiesa, almeno dalle attestazioni che noi abbiamo ricevuto nel tempo, si riempiva di gente che aveva paura e lui consegnava parole di speranza a tutti. Un padre che ha lasciato un insegnamento importante a chiunque lo abbia conosciuto o che adesso lo invoca nelle sue preghiere. Direi imitare Gesù. Non ha mai distolto lo sguardo da Gesù e quindi diremo ha avuto una vita interiore molto intensa che è il segreto della sua santità. Padre Agostino è venerabile e si spera possa diventare presto beato. La procedura richiede lo studio di un miracolo e questo dipende un pochino dai fedeli. Se invochiamo padre Agostino e chiediamo la sua intercessione in qualche situazione difficile della vita e il Signore manifesta un segno, allora potremo veramente con concretezza pensare di arrivare alla beatificazione.